...perché ho degli impegni di lavoro, degli incontri, però avremo un modo di sentirci. Vi mando un bacione. ...sente nelle mani di quell'uomo e ci racconta che non appena prova a ribellarsi, lui trova il modo per andare avanti. Mi diceva sempre, guarda che sta arrivando a fine mese. Cioè ti faceva capire che se tu non... ...non assecondavo le sue esigenze, a me non mi rilassava nel contratto. E Laura non può che leggere così ogni segnale che lui le manda, anche scritto. Lo sai che per te avrà sempre un occhio di riguardo. Per me è... Grazie a tutti. Grazie a tutti